Al ritorno dal viaggio in Messico, Papa Francesco ha ritrovato la sua piazza ad accoglierlo con l'affetto di sempre. Decine di migliaia le persone arrivate a San Pietro per l'ormai consueta udienza giubilare che ha visto oggi la partecipazione delle associazioni dei donatori di sangue. A loro il Papa ha chiesto di vivere la fede in maniera coerente, con uno stile di vita che esprima la misericordia di Dio e ancora di più di rispettare il primo degli impegni, portare agli altri, soprattutto sofferenti e bisognosi, la carezza del padre, essere il assegno concreto della vicinanza di Cristo. Impegnarsi, ha detto il Pontefice, vuol dire assumersi una responsabilità verso qualcuno come quella che Dio per primo si è assunto con noi. Egli ha spiegato Bergoglio, non solo ha creato il mondo e lo mantiene vivo nonostante i nostri continui attentati, ma in particolare ha voluto donarci suo figlio Gesù, impegnandosi in lui a restituire speranza ai poveri, agli stranieri, agli ammalati, ai prigionieri, ai peccatori, che accoglie sempre, anche quando sono suoi nemici. L'invito del Papa è stato dunque quello di corrispondere all'amore che Dio ha per noi con il nostro impegno quotidiano. Penso, per esempio, al nostro impegno con le persone abbandonate, con quanti portano handicap molto pesanti, con i malati più gravi, con i moribondi, con quanti non sono in grado di esprimere riconoscenza. In tutte queste realtà noi portiamo la misericordia di Dio attraverso un impegno di vita che è testimonianza della nostra fede in Cristo. sempre portare quella carezza di Dio, perché così Dio ci ha carezzato noi con la sua misericordia. Al termine Francesco ha esortato a perseverare nella preghiera in favore del suo Ministero Universale, ricordando la prossima festa della Cattedra dell'Apostolo Pietro. Grazie a tutti.